Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento sui temi della politica. Nostro ospite il senatore trevigiano del Movimento 5 Stelle, Gianni Girotto. Ben trovato senatore. Grazie, ben trovato e voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Senatore, affrontiamo un tema che ha fatto molto discutere, soprattutto nei mesi scorsi. Ora forse il dibattito mediatico si è un po' assopito, ma il problema invece alla base resta ancora in tutta la sua evidenza. Ovvero IPFAS, questa sostanza che si è scoperto ha inquinato, rilasciata da alcune aziende, in particolare da una industria, che è andata poi ad inquinare le falde acquifere di larga parte del territorio del Veneto. E quindi questo, oltre alla questione contingente, pone poi anche un problema appunto di inquinamento delle nostre attività produttive, dell'impatto ambientale che molte di queste industrie hanno poi sulla natura e quindi anche sugli sviluppi futuri del nostro ambiente. Sì, allora innanzitutto il dibattito fortunatamente non è cessato, anzi ha avuto un picco perché il governo, con colpevole ritardo, ma finalmente ha commissariato questa gestione della situazione acqua a Vicenza. Con grave ritardo perché sono anni che noi denunciamo il problema e quindi avrebbe dovuto prendere questo provvedimento decisamente molto prima, però perlomeno ci siamo, anche se noi critichiamo fortemente il fatto che nel decreto di commissariamento non si citi mai quello che secondo noi e secondo molti altri soggetti è il principale responsabile, cioè la società Mitteni che secondo noi è responsabile di una buona parte del rilascio di queste sostanze inquinanti. E quindi prima di proseguire con il discorso volevo fare subito un appello o comunque dare un'informazione di servizio a tutti i Veneti perché il problema interessa tutto il Veneto direttamente, interessa 400.000 cittadini nelle province di Vicenza che hanno le falde inquinate e devono già attualmente utilizzare costosissimi filtri negli acquedotti per poter bere l'acqua, quindi già il problema è assolutamente anche economico, oltre che ovviamente sanitario, però come sappiamo l'acqua è un ciclo, l'acqua non è che rimane sottoterra in eterno, l'acqua è un ciclo quindi fra l'altro la falda si sposta, l'inquinamento si sposta e quindi sta coinvolgendo sempre di più il Veneto. Quindi l'appello è per domenica 22 aprile, domenica 22 aprile alle ore 11 ci sarà un sit-in davanti alla Mitteni, attenzione, organizzato dai comitati dei cittadini, quindi un sit-in non diciamo così con bandiere politiche particolari ma organizzato proprio dalle tante associazioni, dai tanti comitati di cittadini che sono fortemente preoccupati di questa situazione e quindi invito, informo che ci sarà questo evento e credo che sia assolutamente doveroso e opportuno andarci perché l'acqua che beviamo naturalmente è una cosa di cui non possiamo assolutamente fare a meno. Volevo allargare il problema al fatto che questa è la punta dell'iceberg, i PFAS e la Mitteni sono una delle sostanze e una delle aziende che inquinano. La direttiva europea dice chi inquina paghi ma naturalmente un conto è dirlo e un conto è riuscire a concretizzare la misura e soprattutto quello di cui vorrei che i cittadini si rendessero conto che la politica non vuole, perlomeno il Movimento 5 Stelle, non vuole semplicemente chiudere le aziende, al contrario vogliamo fare quelle che sono le riconversioni, che sono assolutamente possibili. Un messaggio che più volte, e qui ringrazio anche Radio Veneto 1 che mi dà sempre la possibilità di ripetere e ribadirlo, un messaggio che dobbiamo ripeterci finché non sarà passato a tutti i livelli, è che già attualmente, già adesso, oggi, ieri, la chimica ci permette di fare le stesse identiche cose che attualmente vengono fatte sinteticamente e in maniera non biodegradabile, quindi le centinaia di migliaia di lacche, colle, vernici, plastiche, resine, gomme, solventi, tutte cose non biodegradabili. Già adesso, oggi, anzi ribadisco, ieri, la tecnologia attuale ci permette di farle in maniera completamente biodegradabile e addirittura risparmiando materia prima e risparmiando energia. Più volte ho ripartato l'esempio di una punta di diamante che abbiamo qui nel Veneto, una società italianissima, che partendo da biomassa e facendo lavorare i batteri, quindi facendo produrre queste sostanze ai batteri, semplicemente mettendoli nella condizione migliore di poter, diciamo così, lavorare, riesce a fare le stesse sostanze con il 40% di impiego di energia in meno, il 40% di energia in meno, vi rendete conto che stiamo parlando di cifre elevatissime. Ora, è possibile fare tutte queste sostanze in maniera pulita, in maniera che siano poi biodegradabili. Quindi nessuno vuole la chiusura delle industrie, il licenziamento degli operai, il deserto economico, è tutto il contrario. Prima ci appronteremo in queste nuove tecnologie e prima saremo il leader del mercato. Qua tutti parlano e dicono che dobbiamo essere il leader del mercato. Sì, ma per farlo dobbiamo spostarci sulle tecnologie pulite, perché per forza di cose, i danni ambientali, dobbiamo farli pagare, perché le bonifiche andranno fatte, i filtri che adesso le municipalità dei comuni colpiti stanno utilizzando costano un sacco di soldi e questi devono essere pagati. Solo quello che risparmieremo a livello sanitario sono cifre enormi. E poi ricordiamolo, ricordiamolo, gli studi più recenti fatti sulle transizioni dalle tecnologie sporche alle tecnologie pulite, quindi vuoi i combustibili fossili, le rinnovabili, vuoi la petrolchimica, la chimica verde. Ecco, questi studi ci dicono, danno i numeri paese per paese. L'Italia, tenuto conto dei posti di lavoro che verranno persi, per esempio, dalle fossili, e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il saldo è positivo per mezzo milione di lavoratori, cioè creeremo in più, quindi al netto delle perdite, creeremo in più mezzo milione di posti di lavoro da qui a 2030, spostandoci sulle tecnologie pulite. Quindi il fatto di lottare, in questo caso per l'Ipfas, per la Miteni, per avere produzioni pulite, significa anche accelerare il processo di transizione e creazione di nuovi posti di lavoro. In Italia, e anche questo lo dicono gli studi, le società che sono riuscite a sopravvivere alla crisi meglio e sono cresciute, sono le società che hanno investito in tecnologie pulite, perché vendono di più internamente, vendono di più esternamente e risparmiano, perché si sono accorti che investendo in ricerca e sviluppo e miglioramento del loro processo tecnologico produttivo, risparmiano energia, risparmiano acqua, prodotti che prima erano rifiuti, vengono o riutilizzati internamente o venduti ad altre società e da rifiuti diventano materia prima secondaria. Quindi abbiamo tutto da guadagnarci a passare alle nuove tecnologie. Per questo invito tutti i Veneti, non ha importanza quale può essere il colore politico, qui non è politica, ad andare domenica prossima davanti a sede della Miteni e sollecitare tutti gli ambiti politici per fare questa transizione. E ricordiamoci che se negli Stati Uniti, patria del capitalismo, patria dell'industria più, diciamo così tra virgolette, selvaggia, sono riusciti a far pagare 200 miliardi di dollari e le compagnie del tabacco per i danni provocati dal tabacco, se sono riusciti a far pagare 200 miliardi di dollari, è evidente che possiamo e dobbiamo fare anche in Italia, dobbiamo far pagare chi è inquinato, perché ribadisco, le bonifiche vanno fatte, non possiamo permetterci di avere queste sostanze sull'acqua, sul terreno, che poi diventano sostanze che mangiamo, che beviamo, che respiriamo. Quindi appuntamento a tutti, a prescindere dal colore politico, domenica prossima, a Trissino, in provincia di Vicenza, davanti alla fabbrica della Miteni, e un invito a tutti a fare pressione presso i propri referenti politici per questa transizione dalla petrolchimica inquinante, non biodegradabile, dannosa, alla chimica verde. In Italia siamo leader, abbiamo tutte le capacità, già adesso si fa, si può fare sempre di più, e questo ci consentirebbe anche di alzare moltissimo il livello dei posti di lavoro. E allora, grazie al senatore del Movimento 5 Stelle, Gianni Girotto, per aver focalizzato questi temi sulla questione PFAS, ma anche poi, come abbiamo visto, con i molti risvolti di economia, di sviluppo economico che questa vicenda apre e pone sul tavolo. Grazie al senatore Gianni Girotto. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito. Vi invito a guardare i prossimi spazi di approfondimento politico di Radio Veneto 1, sempre sui nostri canali. Grazie.